Poli Ambulatorio Città di Collecchio, l'eccellenza al servizio della salute. Un vero e proprio punto di riferimento per te e la tua famiglia, in grado di offrire diagnosi accurate e tempestive. Attrezzatore tra le più avanzate a Parma e oltre 60 specialisti per consulti approfonditi. Il Poli Ambulatorio dispone di un centro di analisi cliniche completo, risonanza magnetica e TAC all'avanguardia, servizi di diagnostica oncologica, cardiologia, fisioterapia, medicina estetica e tanto altro ancora. Poli Ambulatorio Città di Collecchio, l'attenzione che vorresti!